Buongiorno a tutti e buona domenica nel Signore! Oggi 12 dicembre 2021, oggi è un giorno meraviglioso, me l'avrai sentito dire non so quante volte, ma è proprio così, oggi è un giorno meraviglioso perché abbiamo la possibilità di stare con i fratelli, di gioire alla presenza di Dio, di adorare il Dio che ha creato il cielo e la terra e di poter godere di tutte quelle benedizioni che Lui ha preparato per ognuno di noi. Se non sei mai andato in un culto io ti consiglio di andare, magari puoi trovare su internet qualche comunità che si trova vicino al tuo paese e sono sicuro che Dio benedirà grandemente la tua vita, ma detto ciò chiudo la parentesi e passiamo subito al versetto di oggi che ci parlerà di un argomento meraviglioso. Dice così la scrittura Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Questo testo lo puoi trovare nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 17, i versetti 24 e 25. Il titolo di questa meditazione biblica è questo, adorare Dio. Il Dio che Gesù Cristo è venuto a farci conoscere non assomiglia per nulla alle divinità e agli idoli pagani. Dio è spirito e non abita in templi costruiti dagli uomini. Infatti in Prima Re 8, 27, Salomone dice, ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruita. Alle sue creature egli non chiede sacrifici, ma fiducia, oltre che alla lode e una reale testimonianza, resa il suo amore e alla sua grande grandezza. Alla donna samaritana Gesù ha detto, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 23. Il desiderio di Dio è di salvare i peccatori e farne i propri figlioli. Allora esse potranno amarlo e rendergli l'onore che gli è dovuto. Dio non gradisce una religione basata su rituali vuoti. Si aspetta invece uno slancio del cuore da parte di quelli che ha salvato. La maggior parte delle religioni insegna che bisogna compiere delle opere e celebrare dei riti e delle cerimonie per ringraziarsi la divinità, placare la sua ira e soddisfare la sua giustizia. Quando qualcuno si prostra davanti a un idolo e, non so, depone un'offerta davanti ad esso, crede di rendersi favorevole il potere che la divinità rappresenta e allontanare il dolore o la sfortuna della propria vita. Ma non è per queste ragioni che il cristiano rende il culto a Dio Padre e al suo figlio Gesù Cristo. No, assolutamente. Non adora per essere salvato, non adora per essere protetto, non adora per essere liberato. Il culto che rende a Dio con la consacrazione a Lui, l'impegno nel servirlo e nel fare la sua volontà, la lode e l'espressione della sua riconoscenza, il modo per dargli gloria, riconoscendo la sua grandezza e il suo amore. Concludo questa meditazione con un invito. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Salmo 106, il versetto 1. Dio ti benedica, buona giornata ancora, e che la pace di Cristo sopravanzi nella tua vita e ti possa coprire interamente la tua mente, il tuo cuore e ogni parte di te stesso. Un abbraccio fraterno virtuale nell'amore del Signore. Pace a te!